50esimo appuntamento con 90 secondi con l'arte napoletana. Questa volta siamo a San Giovanni a Carbonara dove nella cappella Caracciolo del Sole troviamo la tomba di Sergianni Caracciolo, gran siniscalco e amante di Giovanna II, voluta dal figlio troiano post 1441. È probabilmente un'opera di collaborazione tra un maestro lombardo che ha realizzato i guerrieri, la cassa Sergianni, e Andrea da Firenze, praticamente Andrea Guardi, della scuola di Jacopo della Quercia. È un'opera rimasta incompiuta. Non c'è nemmeno la figura del defunto distesa sulla cassa ed è un unicum. Allora sulla base compaiono tre personaggi che rappresentano la forza, il valore e la prudenza. La forza alla spada, il valore alla clava, la barba e leone, la prudenza e serpente e l'ascia. Alle spalle compaiono anche il dominio che ha una sfera e la colonna e la possanza con la torre e la clava. Poi nella parte centrale due geni alati reggono lo stemma con nella parte superiore l'epigrafe del valla che lo dipinge come un novello Cesare. Ai lati sono delle virtù dove tra le altre troviamo la presenza nella parte più alta è l'angelo annunciante della Vergine annunciata e nella parte al di sopra è l'iscrizione del balla la statua proprio di Ser Gianni tra due leoni con elmi sulla testa. Alla prossima, ciao!